Pensiamo che l'accoglienza non possa essere un'accoglienza di emergenza ma si debba strutturare sempre di più un'accoglienza invece mirata a guardare alle persone, all'inserimento nella nostra società, all'integrazione, all'inclusione reale e concreta. Il progetto di integrazione d'accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo che il Comune di Napoli ha attivato insieme con l'Es Impresa Sociale Onlus, con l'obiettivo della tutela e della protezione dei migranti con interventi di accoglienza integrata, si inserisce nella rete nazionale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. La Campania è fra le regioni con il più alto numero di presenze, con oltre 4.500 richiedenti asilo accolti nei centri di accoglienza straordinari ed oltre 1.000 nel circuito del sistema di protezione, di cui 288 a Napoli e provincia. L'adessione al sistema SPRAR, che è un sistema nazionale, che prevede un tipo di accoglienza appunto di sistema, un'accoglienza che migliora nel tempo, su cui noi stiamo costruendo le basi per soluzioni durature, continuative, che guardano anche ai territori in modo molto più aperto, in modo molto più strutturale e anche funzionale al benessere delle persone che accogliamo, ma anche al benessere delle persone che abitano la nostra città. Questa mattina a Santa Maria Lanova sono stati presentati i risultati nel primo dei due giorni di studio su una materia che deve comprendere percorsi di integrazione socio-economica e culturale, di diritto alla salute e di tutela legale, che coinvolgono quindi numerosi soggetti istituzionali, dai servizi territoriali per richiedenti asilo ai titolari della protezione internazionale. C'è il mondo del lavoro, con Italia Lavoro, c'è l'ASL, c'è la prefettura, domani ci saranno anche rappresentanti nazionali, quindi il Ministro Morcone, il Prefetto Pantalone, il sistema Sprar Centrale con Daniela Di Capua e quindi ci saranno praticamente tutti gli interlocutori e gli attori fondamentali. Speriamo chiaramente che voglia unirsi anche la Regione che è un attore fondamentale del sistema di accoglienza e del settore immigrazione, di cui assolutamente dobbiamo occuparci in maniera strutturata e continuativa. Grazie.